Penso che qua, c'è qualcuno che si scandalizza per i piselloni? C'è qualcuno che si scandalizza per i piselloni? C'è qualcuno che si scandalizza per i piselloni? Ma io penso che qua, quanti anni ci avete ragazzi? Quanti anni avete? Se c'è qualcuno che ha 9 anni me lo faccia sapere in chat ragazzi 34, 17, 15, 19, no, ah 9 Ma magari io a 8-9 anni magari mi potevo scandalizzare Ma già a 12 anni io guardavo le fregne, le fregne sbragate sui divani lì Dov'era? Telecabri Telecabri Porco diavolo Telecabri Io su Telecabri Uhuhuhu Una madonna Telecabri a una certa ora era un bordello Telecabri Donne nude Eccole, eccole Spettacolo, programmazione, cattivi pensieri Sì sì Guarda, guarda Certe, certe troione c'erano Ecco, addio Guarda là Che poi c'erano pure quei salotti dove tu ti mettevi Ti mettevi tipo lì sul salotto così, no? In questa posizione così ti mettevi Ti mettevi lì in questa posizione così? Chi è che se lo ricorda? C'erano quelle che stavano così Ti mettevano così Certo? È ok Certo? Facce schermo Se è un po' di chi E' anche se Qui Mi chiamami porcellone ma c'era uno che e c'erano queste e c'erano queste così e se mettevano le cucine la figa sbracata cuciva così che poi un po' si toccava pure un po' si toccava così belle precise così, si metteva lì così, ecco così belle precise ecco, le dirette le dirette le facevano così su telecapri alla mattina verso le 2 o le 3 del mattino me lo ricordo bene perché ok, insomma ok, insomma ok, insomma